17 milioni di euro falsi è quanto hanno scoperto e sequestrato gli uomini della guardia di finanza di Marcianise. Le banconote, tutte da 50 euro, sono di ottima fattura e riproducono fedelmente sia il filo di sicurezza che gli ologrammi dei 50 euro originali. I finanzieri hanno arrestato l'uomo trovato in possesso delle banconote false, un campano senza precedenti penali. Dovrà rispondere del reato di falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. I baschi verdi sono intervenuti quando hanno visto l'uomo in un'area appartata del parcheggio di un grande centro commerciale trasportare in modo frenetico dei cartoni da un veicolo di una società di spedizioni al suo furgone. Scattati i controlli, i finanzieri hanno trovato l'ingente carico di banconote false occultato tra materiale di cancelleria. L'operazione condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha così evitato che il denaro falso arrivasse nelle tasche dei consumatori che, data la fattura delle banconote, avrebbero avuto difficoltà a riconoscerne la falsità. Adesso le indagini dei finanzieri mirano a risalire ai canali attraverso i quali i biglietti illecitamente fabbricati sarebbero stati immessi in circolazione.